Nella maxiseduta di ieri in consiglio comunale a Modica si è tornati a parlare delle presunte incompatibilità in giunta. Ancora una volta l'opposizione punta il dito contro gli assessori Giorgio Belluardo, architetto di professione, e il vice sindaco Giorgio Linguanti, che invece è ingegnere. La presunta incompatibilità, secondo la giunta e la maggioranza consigliare, in realtà non sussisterebbe, dato che i due interessati ad inizio mandato avrebbero depositato una comunicazione con la quale si dichiarava sin dall'insediamento la volontà di rinunciare a qualsiasi incarico di carattere professionale, che ricadesse nell'ambito del territorio comunale. Una lettera che tuttavia, secondo il consigliere comunale, vice presidente del consiglio Michele Polino, non escluderebbe comunque l'incompatibilità. La parola potrebbe ora passare alla magistratura, dato che è stato chiesto di trasmettere la registrazione del dibattito in aula alla magistratura stessa per fare chiarezza. Un caso che, come rilevato da Vito D'Antona, consigliere di SEL, ha carattere giuridico-amministrativo e nulla a che vedere con la politica. Ma dato che la questione non accede a chiudersi, l'unica strada percorribile risulta essere quella della magistratura che faccia così chiarezza su quanto sta avvenendo al comune di Modica.